Mazzate d'esplosioni, smitraglie e pallettoni, marmellata di cepponi e di 400 calci! Buona stessa! Buonasera a tutti, scusate il jumpscare, però volevamo partire così! Meraviglioso! Che bello! Gran partenza! Gran partenza! Buonasera a tutti, io sono Nanni Ocafone Cobretti, e tengo di logo questa edizione che cabbia Nanni Ocafone Cobretti, con me ci sono i Prodito Cirgi Funi e Terrence Maverick, siamo qua con il consueto appuntamento del giovedì con gli approfondimenti sui film importanti, questo mese, ottobre, abbiamo deciso di dedicare il mese di ottobre ai film dei Lupi Mannari, per cui il gran finale era un titolo assolutamente obbligatorio, era il primo titolo che ci è venuto in mente, quando ci dicono Lupi Mannari, il primo titolo che ci viene in mente, in assoluto, è questo qua, La Croce delle Sette Pietre, L'orgoglio nazionale, uno dei film di cui siamo più fieri, penso che ognuno di noi abbia delle storie sulla prima volta che ha visto il film, eccetera, è un film che è girato in qualsiasi condizione per decenni, ma l'occasione è perché è uscito finalmente un cofanetto Blu-ray, cioè sia in versione edizione limitata che in versione normale, a cura della Tetro Video, hanno restaurato il film, è una cosa che quando me lo sono guardato mi sono commosso, si vede bene, cioè non ci vede bene. Finalmente, finalmente dopo anni che i fan hanno chiesto a gran voce questa cosa, altro che le petizioni per la Snyder Cut, diciamolo. Vogliamo vedere bene gli effetti speciali della Croce delle Sette Pietre, è una cosa di cui abbiamo bisogno e siamo stati a costruire. Esatto, è una delle opere più sottovalutate al trucco di Rick Baker, no, non era Rick Baker questo, no, ci sto confondendo. Non era neanche Rob Bottin. Non era neanche Rob Bottin, però andava fatto, cioè quando ho visto che usciva Blu-ray, cioè ringrazio pubblicamente la Tetro Video per essersi imbarcato in questa impresa, ho fatto un lavorone, non so. Grandi, grandissimi. Siete bene, siete bene, l'ho guardato su una TV gigante, me lo son goduto, e mi son commosso, è piaciuto il doppio della prima volta. Di più non so cosa dire. Bene, da dove partire? La Croce delle Sette Pietre, film del 1987, di Marco Antonio Andolfi, firmato però è di Andolf. Certo. Beh, possiamo partire, se vuoi possiamo partire da come siamo legati a questo film, quando è stata la prima volta per ciascuno di noi tre, magari, non lo so. È di sicuro una visione illegale di qualche tipo, che non ricordo, con amici, e poi l'ho riguardato da solo, però cioè, era la classica cosa che tutti ne parlavano, bisognava recuperare in qualche modo, qualsiasi condizione era, andava bene, poi te lo guardavi, e la mia prima impressione che, insomma, se ne parlavo come di un film esilarante, ovviamente lo è, però era serio, era più serio di quello che immaginassi, cioè, che era una cosa di cui ero molto contento, perché sono ovviamente le operazioni che mi affascinano di più, però così, cioè, come dire, alla fine l'impatto è quello, esatto, l'impatto è quello, cioè, ovviamente l'impatto è quello del costume da uomo lupo, che è inspiegabile, la prima volta è inevitabile, la prima volta passi l'intero film a chiederti perché, riguardo al trucco dell'uomo lupo, penso che non si spugna, quindi non so, per voi com'è stato? Vado io, vado io, Terrence, che poi secondo me tu hai una storia molto più affascinante, io faccio una premessa, nonostante io e George in gioventù avessimo avuto un bellissimo cineforum di film brutti, ci trovavamo una volta alla settimana a guardare un'ampia selezione di film brutti a casa di un amico e nonostante tutto in quella circostanza non sono riuscito a scoprire la Croce dalle Sette Pietre che invece ho scoperto solamente il mese scorso quando abbiamo cominciato a parlarne per questo nostro grande speciale sui dubbi mannari, quindi la mia prima, la mia seconda e la mia terza volta nella Croce dalle Sette Pietre sono state nell'ultimo mese in solitudine e continuando a non capire che bello, ora guarda vedendolo su YouTube dove ragazzi calcisti e calciste lo trovate, ma lo trovate come dicevo come dicevo ai colleghi prima lo trovate in versione porno giapponese dove tutto quanto è un genitale pixelato e quindi comunque si intuisce tutto molto bene e i primi piani del trucco e della trasformazione in diretta si riescono comunque ad apprezzare. Allora, un paio di cose rapidissime. La prima che ci tenevo a dire è che il film dell'87 era uscito poi solo mi risulta in Italia, in Germania e in Giappone e la cosa è celebrata dall'edizione limitata del Blu-ray del tetrovideo perché ha la costina col titolo giapponese. Esatto. Era ovvio che fosse uscito in Giappone. No, ma ragazzi in Giappone ha avuto successo in un certo senso e c'è un certo culto in Giappone. Perché non ha avuto successo? In Giappone. No, perdonami arrivo subito alla seconda cosa che era questa. Ci mancherebbe. Grazie mille ladro bardo per l'abbonamento. Cominciamo bene cominciamo carichi preparatevi grande ladro bardo ovviamente vi ricordo che funziona l'abbonamento potete abbonarvi in due modi uno se avete già l'abbonamento su Prime non spendete niente semplicemente confermate che volete abbonare poi ci pensa Jeff Bezos a pagarci l'altro è una cifretta mensile che ci fate tantissimo piacere se vi sentite di spenderla per noi siamo molto contenti ci aiuta a continuare con queste trasmissioni e a fare tutto il resto che facciamo quotidianamente sui 400 calci il vantaggio è che vi vedete la trasmissione senza pubblicità ma soprattutto potete in barbara la democrazia potete votare i premi Jimmy Bobo e il vostro voto d'abbonato vale doppio potete farlo anche stasera ci sarà ci sarà un ci sarà un'edizione particolare dei Jimmy Bobo che stasera ve la spieghiamo dopo ma il voto degli abbonati vale doppio nel frattempo non mi voglio dimenticare ma facciamo ringraziare Ladro Bardo questo è un altro perk degli abbonati ringrazio di Tullsadoom a cui abbiamo affiancato di recente cosa? no vai vai fai affiancare che poi ti dico a cui abbiamo affiancato ultimamente anche il grande caprotti ringrazio grande caprotti grande caprotti fantastico fantastico ci fanno giustamente notare nei commenti una cosa su cui abbiamo sorvolato che il film è uscito solo in Germania in Italia e in Giappone questo intendi quello che fa grande grande Dambolic vero orche miseria vabbè giusto è molto giusto Italia, Germania e Giappone non andavano così d'accordo non andavano così d'accordo dai tempi dai tempi dai tempi dai tempi che meraviglia comunque Toshiro che tenerezza quindi così giovane così vergine alla visione di questa meraviglia ti cito anche questo Giampiero che fa notare peccato che in Giappone non abbiano approfittato per un crossover con Godzilla Gamera e Tukubo a piacimento che porca miseria Godzilla Gamera e l'uomo lupo contro la camorra sarebbe un film che andrà a vedere ieri l'uomo lupo contro la camorra che rompe le sedie sulla schiena di Gamera assolutamente no comunque sì ho visto un sacco di film brutti mi sono sempre non vantato perché non ci si vanta ho sempre pensato di essere un conoscente una conoscenza a scuola dai tempi della rubrica di Chuck catechumeni catechumeni yeuk però la croce dalle sette pietre mi è proprio mi è passato sopra la testa non ti è passato sotto il radar quello è per un'altra è per un'altra puntata che non mancherà non mancherà obbligatorio e vado io allora allora io ho scoperto questa meraviglia ormai nel lontano 2006 ai tempi dell'università a Bologna infatti ne vorrei approfittare per salutare i miei ex compagni i miei ex compagni di casa di casa Mascarella e di casa Franco Bolognese perché con loro chi è che non ha abitato in Mascarella e non ha avuto successo in Giappone Nanni sì infatti io ho scoperto questo abbiamo scoperto questo film perché avevamo appena scoperto quell'altro capolavoro di Jesus Christ Vampire Hunter che è un'altra perla sulla quale meriterebbe di fare una puntata degli stranissimi prima o poi quel film lì e avevamo appena scoperto questa perla tramite amicizie varie che anche lì passa parola vari nell'internet e un mio amico un mio carissimo amico ha provato a cercare delle recensioni riguardo a questo film e siccome era il 2006 e al tempo ancora quindi diciamo che le recensioni sul web siccome non c'erano i 400 calci nel 2006 non esisteva niente no? cioè sì non esisteva nulla sul web ci siamo però imbattuti in questo sito molto carino al tempo proprio un veterano dell'internet dei tempi che si chiamava filmbrutti.com che era molto colorato aveva tutte queste giffine carine e lì c'era tutta tutta una una conoscenza enciclopedica di tutti questi film qui tra cui appunto anche il meraviglioso Alex Lariete e tra questi ci imbattiamo in questo in questo La Croce dalle Sette Pietre che cominciamo a leggerci la trama e a capire un po' di cose perché poi c'era anche il forum dei film brutti dove noi eravamo ovviamente iscritti cercavamo di capire cose niente ci convincono ci convinciamo a scaricarlo mi sa che al tempo lo scaricai dal mitico Mulo dal mitico Imiul era l'unico modo era l'unico modo per trovare era l'unico modo per poter esatto esatto era l'unico modo per poter tra l'altro proprio oggi per fare un esempio sulla potenza e sull'importanza del Mulo proprio oggi è uscita la quarta stagione di Boris che è proprio il prodotto che senza queste robe qua non avrebbe avuto nessuna speranza di esistere cioè su Fox non lo guardava nessuno i ragazzi giusti lo scaricavano sul Mulo all'epoca perché era il 2007 sì se non ricordo male qualche eroe caricò anche qualche puntata illegalmente su YouTube e poi dopo venne chiaramente stroncato sì sì qualche eroe al tempo fece questa mossa passa parola vario e sì sì esatto ma queste cose hanno cioè il bello dell'internet al tempo era proprio questo quindi lo scoprì come ci arrivava il Giappone esatto quindi lo scoprì tramite appunto questo sito e io e i miei compagni di casa e mi ricordo ci eravamo proprio innamorati di questo film io l'ho visto tantissime volte e a Bologna c'era al tempo adesso non so se c'è ancora un piccolo negozietto che faceva da distributore per le locandine nei cinema di tutta la città e si chiama si chiamava Sack ok questo posto era un posto magico per un cinefilo perché tu entravi in questo in questo sotterraneo ed era pieno di locandine e anche di film vecchissimi mi ricordo che tronezzava questa locandina gigante originale di Aladin e di per un pugno di dollari tipo e ci trovavi di tutto perché loro rifornivano anche di cinema io un giorno andai lì e gli ero chiesi ma non è che per caso hai la locandina della croce dalle sette pietre e questo tizio ce l'aveva ce l'aveva e me la sono comprata dovrebbe ancora averla Alessandro se non l'ha buttata via se non l'ha persa in uno dei vari traslochi quindi Ale se sei se sei in ascolto ti prego dimmi che ce l'hai ancora vabbè adesso vado immediatamente su ebay a cercare i prezzi perdonami ebay adesso vado io sono molto sono molto affezionato a questo film è un film io in una parola se vogliamo definirlo è un film clamoroso è un film clamoroso è sì sì io sono a livello emotivo io sono molto emozionato non vedevo l'ora che arrivasse questa serata ragazzi che bello che bello sì sì è un mese che ce la veniamo con questa serata anch'io non vedevo l'ora allora la prima cosa da dire è che su ebay io trovo la croce delle sette pietre nel senso proprio la croce è stato l'oggetto con quella patacca che c'è nel film oh mio dio fatemi una patacca con i brillocchi attaccati no no non è la stessa del film è una cosa che ci assomiglia molto vagamente che meraviglia vabbè adesso vi vi carico l'immagine comunque direi che possiamo passare tranquillamente a introdurre il film che dire è il 1987 e il cinema italiano era già in fase calante penso che ormai era già l'epoca in cui la televisione impazzava quindi tutti i registi che una volta facevano i film di genere stavano cominciando a fare cose per la tv oppure a faticare a trovare nuovi progetti adesso se la memoria non mi inganna sono più o meno gli anni in cui il successo italiano di genere più grande del periodo fosse il ragazzo a kimono d'oro cioè sono già quegli anni lì eravamo già il ragazzo a kimono d'oro è l'ultima sì Dario Argento aveva già fatto opera e poi da lì è andato un po' calando Deodato stava già passando a fare i ragazzi del muretto secondo me ragazzi a kimono d'oro è forse stato l'ultimo film di successo di genere italiano da cui poi addirittura una storia incredibile ma l'ultima veramente di successo per cui insomma era un po' all'ultima ondata un po' iniziava la sfumatura verso il nulla che soltanto negli ultimi tempi sta resuscitando uscivano ancora penso i vari sequel così dice apocrifi dei grandi successi hollywoodiani ovvero che ne so il film Terminator 2 di Mattei se non sbaglio che è uscito prima del Terminator 2 di Cameron ecco era completamente diversa erano gli anni in cui uscivano tutti i sequel soltanto nel titolo della casa di Sam Raimi che si chiamavano la casa 3 4 5 7 oppure 3 4 5 Franco e 7 no non voglio farlo ah questa era una accettazione questa è una accettazione che mi è venuta così al volo che non c'entrava assolutamente niente dal Aldo Giovanni e Giacomo però insomma già all'epoca mi faceva ribaltare da ridere che non era uscito la casa 6 e mi ero uscito la casa 7 che meraviglia Alien 2 sulla terra che cita Gian Pietro penso che fosse precedente perché era addirittura precedente ad Aliens di James Cameron e c'era stati faremo faremo di sicuro una serata anche su Alien 2 perché merita a partire dal fatto che Aliens si chiama Aliens perché Alien 2 l'aveva già preso Ciro Polito per noi che storia magnifica cosa che per Terminator purtroppo non ha funzionato però insomma erano quegli anni lì era veramente l'ultima ondata le ultime cosette qualcosa è uscito fino ai primi 90 penso Troll 2 fosse successivo però era è finito un po' lì ecco e La Croce delle Sette Pietre è comunque il progetto di Marco Antonio Andolfi che viene dal teatro così racconta e dopo aver fatto Toshiro per cortesia se cominciamo subito così non lo sapevo davvero vai in giro vai in giro a dire questa roba qua allora allora io scopro le carte immediatamente io ho visto nel Blu-ray da tetrovideo lo speciale intitolato riassumendo Marco Antonio Andolfi che è praticamente è un'intervista fatta al telefono credo dalla qualità dell'audio che è montata e lui racconta che ha iniziato la carriera fondando una compagnia teatrale e poi dice no una compagnia teatrale che andava benissimo spettacoli tutte le sere e poi tra di noi sono passati anche attori che dopo sono diventati famosi tipo sì insomma ma cos'è che stavo dicendo questa ma la compagnia teatrale che maestro non dice neanche uno che maestro che maestro principe Marco Antonio neanche uno io mi aspettavo spara un nome incredibile oppure spara un nome che in realtà non conosci no non ne dice neanche uno lo dice Servillo cazzo dai lo dice tra anche gli anni giusti allora adesso mostro questo commento di perché Tony Randine mi dice qualcosa sono sicuro ma non ricordo so che è un riferimento a qualcosa che una volta conoscevo ma che ho dimenticato porca miseria comunque andiamo avanti finché esatto comunque niente a un certo punto decide di passare al cinema e mette su sto progettino qua sostanzialmente recupera i famosi fondi statali che su quelle cose che succedono a tutti chiunque è andato è diventato famoso in Giappone chiunque è abitato in Gia Mascarella e chiunque ha chiesto i fondi statali per girare un film amatoriale che poi chissà che è uscito in due sale in croce e questo è tutto un altro capitolo che preferisco non aprire e insomma fa su il film alla fine riesce anche a far su un paio di nomi perché comunque partecipa Gordon Mitchell Gordon Mitchell non è per forza il nome più grosso del mondo ma è un ex culturista che era venuto fuori ai tempi di Steve Reeves praticamente era un clone di Steve Reeves Steve Reeves lo ricordate per i film di Ercole e per essere insomma la persona che ha ispirato sostanzialmente la carriera di Stallone e Schwarzenegger come loro dicono nelle interviste è bello che ogni generazione ha il suo punto fermo e quando vai a chiedere a qualcuno di quell'età o di quel genere ti dicono tutti la stessa persona per cui chi faceva arti marziale negli anni Ottanta ti dicono è stato Bruce Lee chi fa arti marziale adesso ti dice è stato Van Damme e senza esclusioni di colpi chi faceva culturismo negli anni Ottanta ti diceva è stato Steve Reeves ai film di Ercole chi oggi fa i film sui lupi mannari dice Marco Antonio Andorri esatto esatto e chi non lo dice mente bravo esatto Gordon Mitchell era un clone di Steve Reeves che faceva i vari film con i gladiatori e quel tipo gli uomini forzuti hanno avuto una carriera lunghissima e è arrivato insomma a fine anni Ottanta Andorri gli offre un assegno e lui dice ok stanzionezza poi c'è quest'altro dietro le quinte che racconta Andorri per telefono e lui per la protagonista femminile ha detto guarda a me era stata offerta Stefania Sandrelli però io ho detto prendo Stefania Sandrelli o prendo piuttosto una che secondo me è giusta per il ruolo è più somigliante al ruolo che ho scritto e io sono andato con la scelta artistica devo dire che sono rimasto fedele al mio spirito artistico ho detto Sandrelli prossimo magari se scrivo una parte che mi sembra che somiglierei questo ho scritto ho un'attrice in mente che anche questa non è un'attrice sconosciuta alla fine Annie Bell e anche lei ha avuto una carriera abbastanza lunga io me la ricordo principalmente per La Casa Sperduta nel Parco di Deodato però ha fatto altri ruoli adesso c'è una carriera lunga che vado ad aprire su IMDB magari però insomma era di quel giro lì penso abbia fatto uno dei vari film di Emanuele cose di questo genere insomma non era l'ultima arrivata era un bel colpo era magari quei 5-6 anni dopo il picco della carriera però era ancora più che presentabile ed era un bel colpo insomma era comunque una con dell'esperienza mentre e comunque si è scelto lei al posto della Sandrelli vuol dire che era scusa l'integrità artistica prima di tutto il maestro avrà avuto le sue buone ragioni esatto la prima scelta è la prima scelta si è scritto il ruolo per lei ci sta poi l'altro attore con una certa fama che si può citare Terence dicevi che era Piero Vivaldi si Piero Vivaldi che è un attore che ha sempre fatto parecchi ruoli nei film di Fantozzi e in questo film ha il ruolo ha il ruolo di Totonno Capone insomma il camorrista perché c'è un motivo allora bisogna dire una cosa molto importante riguardo a questo film questo film è stato famoso nel passaparola dei primi anni dell'internet non esattamente con il suo vero titolo ma con il titolo Il lupo mannaro contro la camorra esatto perché vogliamo parlarne di questo film che chiaramente ha ricevuto i fondi statali perché è un film per il sociale cioè è Gomorra 40 anni prima di Gomorra lo vogliamo dire esatto lo dicono anche nell'intervista che no 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 ma non ti preoccupare Toshiro perché quando quando il maestro è stato intervistato gli hanno detto esattamente questo cioè che questo è il primo vero film sulla mafia non Gomorra esatto lui l'ha detto ragazzi questo è Gomorra 40 anni prima questo Adolfi l'ha detto per trovare finanziamenti gli è andata bene è un genio mi piacerebbe dire che è il classico prodotto amatoriale girato tra amici e vicini di caso quel che vuoi ma a fine non lo è ovvio che tanti aspetti lo sono e che già lo metti di fianco anche solo a Troll 2 che è un altro film che ha avuto tutta una strana carriera dietro eccetera magari non è l'esempio perfetto però Troll 2 è molto più professionale di come lo si dipinge la croce delle sette pietre anche persino meno professionale di Troll 2 però comunque io ho pensato i riferimenti che io sono più che altro americani e vi faccio un po' di esempio so chi stai per dire lo sapevo allora allora secondo me la parola che stai cercando è che è un film confezionato bene ma non girato e scritto bene esatto e io so chi stai per citare prego maestro vai allora questi personaggi qua che sono sono autori contemporaneamente autori sceneggiatori registi e protagonisti e c'hanno dei soldi da spendere riescono comunque circondarsi di esatto che gli confezionano tutto il resto più o meno decorosamente e questo autore che sto per citare ha un'altra caratteristica in comune con Marco Antonio è strano che ne sto per citare due entrambi fanno esattamente la stessa cosa sono registi sceneggiatori e protagonisti come minimo a volte anche tante altre cose tipo effetti speciali o montaggio o che che vuole ma c'è un'altra caratteristica c'è un'altra caratteristica che gli accomuna i film di questi autori tanto vale che dico il nome adesso sto citando Tommy Wiseau di The Room e Neil Breen che forse è meno famoso in Italia e forse è meno Tommy Wiseau ma un altro che è di quella cerchiera un altro soggetto particolare che si fa i suoi film quasi da solo e che poi li vedi e sono assolutamente allucinanti ma questi tre personaggi hanno in comune una cosa che secondo me non è casuale è triste ma non è casuale è vero che questi film contengono tutti quanti rigorosamente una scena di sesso dove il protagonista deve far vedere il suo corpo nudo scolpito da dietro è vero e soprattutto dove il protagonista non ha la minima idea di quale sia la biomeccanica del lato sessuale esatto anche questo è incredibilmente è incredibilmente comune a tutti e tre gli autori che ho citato sì è vero questa cosa di scopare nell'ombelico è una cosa molto è una cosa molto in comune quando pratica il coito fa proprio solamente su e giù non si muove come dire in avanti e indietro fa delle flessioni sul corpo di questa povera attrice che tra l'altro è anche brutto di dire aveva lavorato un sacco prima di incontrare la croce dalle sette pietre poi ha fatto la croce dalle sette pietre e ha smesso di fare l'attrice la pagina di wikipedia è proprio dice Zahira Zocchedu è un'ex attrice italiana nel senso che dopo aver partecipato al team di Andolk ha deciso pasta sì purtroppo sento che di questo film non si sa abbastanza non si sono abbastanza storie dietro le quinte per certi versi forse è meglio però insomma una parentesi che c'è una cosa che volevo gettare lì è questa strana coincidenza che tutti questi autori che cercano di farsi un film da solo vanno sempre a parare nella scena di sesso è una scena dove devono vantarsi del loro fisico è una cosa che andrebbe investigata da qualcuno che non sono io a me si bruciano le retine dopo poco e non riesco ad arrivarci io sono molto contento che tu un anno hai fatto questo parallelo perché se no l'avrei fatto io cioè secondo me Marco Antonio Andolfi è proprio la cosa che più si avvicina nel nostro cinema alla figura di Tommy Wiseau e secondo me hanno anche altre cose in comune cioè anche nel modo di comportarsi nello sguardo cioè c'è l'occhio c'è l'occhio c'è l'occhio c'è l'occhio c'è l'occhio guarda io non voglio essere indelicato ma c'hanno un po' entrambi lo sguardo di chi forse non ci arriva fino a un certo punto ok cioè sono capisce dal film cioè non è che c'è il film eh no però hanno però hanno entrambi però hanno entrambi un po' quella faccia che forse come si suol dire non battono cento ok in un certo senso da noi si dice non fanno mezzo chilo bravissimo esatto è quella sensazione lì è quella sensazione lì che mi danno entrambi e poi entrambi hanno questa caratteristica qua di non saper fare minimamente di non avere idea di come si fa un film però dietro c'hanno qualcuno che gli dà i soldi per poterlo fare cioè La Croce dalle Sette Pietre non è un film cioè è un film confezionato bene poi è ovvio che è nelle mani di una persona che non sa come dirigere gli attori che non sa come girare ma questo lo vedi anche banalmente dalle scene alla stazione del treno dove palesemente lì secondo me è ovvio che non hanno chiesto i permessi per girare la scena nessuno sapeva che cosa stavano facendo tant'è che loro parlano e come loro parlano ogni tre per due la gente dietro si ferma a guardare guarda in macchina e sto strosto guarda in macchina e guardano in macchina e si dicono ma questi cosa stanno facendo si vede proprio si vede un dito uno che fa ma questi cosa fanno questi e indicano loro quindi è palese proprio questo sì allora va detta anche un'altra cosa che sia rispetto a Tommy Wiseau che rispetto a Neil Brim con tutti i suoi difetti la croce del sette pietre sembra una fiction di canale 5 in confronto a Jerome per la confezione e tutto il resto e c'è una cosa che che le distingue appunto sia da Tommy Wiseau che da Neil Brim ma fa ridere soprattutto in confronto a Tommy Wiseau ovvero che nonostante la vanità del farsi vedere spesso nudo il buon Eddie Endolf si lascia si fa doppiare da qualcun altro è vero avete presente Tommy Wiseau in the room l'accento che sfoggia vedere che Eddie Endolf invece ha l'umiltà di farsi doppiare da Luca Ward tra l'altro è notevole vuol dire che è una di quelle cose in cui qualcuno gli ha detto guarda la tua edizione arriva fino a un certo punto secondo me ti conviene farti doppiare e lì l'avevo un amico secondo me qualcuno tu la vedi così io non la vedo così io la vedo che lui fin dal principio invece uno con un ego così si immagina in un certo modo e vuole che poi sia in un certo modo cioè non non è una questione che qualcuno gli ha detto hai la edizione sbagliata devi farti doppiare perché se no non si ascolta io ce lo vedo più come un lui che lui non aveva idea di come si faceva un film quindi viveva magari del cinema che aveva assorbito e quindi lui è un po' come quegli attori è un po' come come Tommy Wiseau stesso che quando gli chiedono da chi ti piacerebbe farti interpretare e alla fine hanno scelto James Franco però mi sarebbe piaciuto Johnny Depp è un po' come è un po' quello stesso meccanismo lì e voglio avere la voce di Luca Ward perché Luca Ward è un doppiatore figo che ha una bella voce e torna il discorso tra l'altro adesso la vera è un film confezionato bene sì sì dico solo questo è un film confezionato bene se tu puoi permetterti di avere Luca Ward che ti doppia il protagonista quello che ti vai 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 pure no era una parentesi adesso la vera domanda è come per The Room chi in Italia farà il film sulla croce dalle sette pietre è una bellissima domanda questa Sibili questa è una domanda alla quale io sarei voluto tranquillamente arrivare sono contento che l'avete tirata fuori voi perché secondo me no ragazzi secondo me la croce dalle sette pietre è un film che meriterebbe tutto di essere fatto di avere un trattamento alla disaster artist primo perché ci saranno tanti di quegli aneddoti che non sappiamo che Nanni giustamente ha detto sai quanti ancora se ne sono e quante persone potrebbero intervistare per dare il loro contributo a come è venuto fuori questo film e poi questo film ha avuto i finanziamenti del Ministero dei Veni Culturali c'è qualche risposta qualche risposta a qualche domanda se la dovranno dare prima o poi la vita la vita c'è tutta una miniserie di cazzo di subarte su come assegnano i fondi statali peccato che Marco Antonio Andolfi sia morto e defunto da qualche anno e quindi certi segreti sono morti con lui certe cose print the legend esatto comunque direi di far partire il trailer e dopo riassumiamo brevemente la trama con enfasi su brevemente perché se non non se ne ma cominciamo a far vedere delle immagini a questo benedetto film eccole qua senza audio perché non vogliamo dare i soldi e i diritti d'autore a colonna sonora di Eddie Andolf ma guarda che meraviglia questo è già il trailer con il sottotitolo in inglese che meraviglia questo è chiaramente il trailer del blu ray della tetrovideo si capisce dalla qualità spettacolare non so se l'avete mai visto così bene sì sì allora trama brevemente l'avete intravista Marco Antonio Andolfi viene scippato di un gioiello e lui a quel gioiello ci tiene veramente a bestia ci tiene tantissimo è veramente disperato lo deve riavere a tutti i costi lui sostiene che abbia un valore affettivo in realtà è più di quello insomma lui entra a contatto con con la camorra perché pare perché la croce è arrivata lui e cerca di indagare dove è finita insomma e si scopre durante l'avventura che che lui senza la croce sostanzialmente si trasforma in un lupo mannaro se così vogliamo definirlo se così vogliamo definirlo per cui insomma la trama è quella lui che cerca di recuperare la croce e lui ogni tanto insomma si trasforma quando c'è la luna piena come da leggenda classica lui diventa lupo mannaro ed è un no aspetta non è esattamente così quando scocca la mezzanotte quando scocca la mezzanotte è vero se lui non ha la croce addosso quando scocca la mezzanotte diventa questo questo strano essere insomma esatto definirlo lupo mannaro è un po' azzardato dai il cugino il cugino hit non lo so il cugino hit travestito da wolverine un po' depilato sul petto sulla schiena diventa il cugino culturista il cugino culturista di chubecca possiamo definirlo così allora vogliamo affrontare subito esatto vogliamo affrontare subito il punto chiave del film il punto chiave del film è ovviamente il trucco da lupo mannaro e quindi ah pensavo che forse non c'è cosa non c'è cosa più divina il punto chiave dopo la spieghiamo questa esatto il punto chiave è questo questo è il lupo mannaro ecco esatto penso che non abbia bisogno di particolari commenti la domanda è è questa perché questo lupo mannaro ha una maschera più qua nella foto non si vede ha i guanti dipende per il resto è glabro come un nuotatore olimpionico e ora ci sono allora io ho tante domande lo ammetto quando l'ho riguardato non ricordavo alcune cose rispetto all'ultima volta che l'avevo visto e le ho scoperte riguardando lì per cui io nella mia testa ho sempre detto non aveva i soldi per fare i trucchi per fare il trucco integrale per cui è andato con le due cose più semplici da fare ovvero una maschera e due guanti questa era la cosa che mi raccontavo da solo in realtà poi riguardando il film c'è questo flashback dove lui racconta un po' l'origine della sua maledizione e si vede il demone questo soggetto qua si vede il demone originale esatto Amorim Amorim che ha il costume Amorim che ha il costume integrale Amorim Amorim scusate e quindi la domanda è quella ma allora un costume integrale ce l'avevi porca miseria allora che cazzo fai si torna a quello che hai detto prima esibizionismo sicuramente è un misto di esibizionismo oppure è un misto di no il costume mi fa troppo caldo mi è scomodo che ne so per cui non me lo metto oppure perché alla fine è quello tu comunque sei il regista sei l'autore sei quello che decide ti puoi circondare di professionisti che tutte le cose di cui tu non sai niente te le sistemano però certe scelte certe scelte importanti rimangono tue e puoi essere circondato da gente che ti dice guarda che secondo me è una cazzata però se tu insisti dici no porca miseria la voglio fare così la fai così quindi cioè puoi fare sì puoi fare un film professionale un minimo professionale dove però il lupo Mannaro è questo cioè è una roba che chiunque altro avrebbe detto secondo me non ce l'ha il costume dalla quantità di volte in cui si è inquadrato si è inquadrato il culo effettivamente cioè sembra una teoria valida il fatto che si cacesse particolarmente mezzo nudo e che quindi abbia deciso che quella era la strada da percorrere fare vedere il suo fisico statuario il più possibile allora segnalo un paio di commenti ma secondo me secondo me poi c'è anche il fatto che probabilmente la troupe nessuno aveva voglia di dirgli guarda che questa cosa non funziona ma probabilmente erano tutti contenti di essere pagati portiamo a casa sta cosa e andiamo via non so segnalo segnalo un po' di commenti allora Don Bolli che dice le voci che girano fu che per girarlo si feceva prima trattativa a stato mafia mi sembra il mozzo viledo di Ciubecca si poi questa è un'altra tesi gli avranno rubato il costume durante le riprese potrebbe anche essere potrebbe anche essere allora grassa che è riuscito a usarlo per un personaggio grassa che sia a suo modo coerente oppure Peldrigal che dice lui è il figlio di Aburim e quindi vogliono far notare che è mezzo umano mezzo demone quindi mezzo peloso genio questa è una bella spiegazione questa mi piace molto molto bene molto bene qualcuno è entrato veramente nella mente del principe molto bene demone Aburim che tra l'altro ha una delle una delle mie scene preferite del film quando dà ripetutamente della sgualdrina alla mamma del protagonista in questo che meraviglia è vero con questa voce che non riesco a descrivere perché mi mancano le parole non sono un poeta rallentatore dice sgualdrina si esatto sgualdrina si 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 è un demone che dà della sgualdrina l'ho trovato abbastanza poetico si perché dobbiamo dire infatti che appunto Nanni giustamente ha stretto la trama all'osso e volendo volendo no perché giustamente perché se no se andiamo nel dettaglio a raccontarle è un casino per esempio la battuta che ha fatto Toshiro sulla cugina la spiegazione è che tutto inizia perché il nostro protagonista Marco Sartori arriva alla stazione e viene a prenderlo sua cugina che poi in realtà non è sua cugina poi si scopre che era un'amica della cugina che si è spacciata per sua cugina e non si capisce come è possibile che lui non la riconosce non si capisce niente c'è questa sottotrama della cugina che poi arriva la cugina vera che non porta da nessuna parte non l'aveva aggiunta su facebook non l'aveva aggiunta su facebook e quindi che poi sia la finta cugina sia quella vera non si ripresentano mai più per tutto il film non si ripresentano mai più per tutto il film e hanno dei dialoghi con questa persona che sono al limite del surreagello io non so come sembra che la sceneggiatura era in un modo poi un giorno un cane ci è passato sopra e hanno perso dei pezzi in mezzo e li ha strappati ma perché non ha senso se questa arriva fa ma tu sei veramente Marco sì sono veramente io ma tu chi sei io sono questa ma ci conosciamo da anni ti ho sempre scritto ma come allora due secondi prima hai detto che non lo conosco cioè non torna niente la cosa però importante è che noi ho parlato un sacco di te alla mia amica però non ti riconosco non so chi sei però non ti riconosco non so chi sei un'altra cosa molto la Tommy Wiseau è che è che il principe Marco Antonio si è scritto un personaggio per cui tutte le donne cadono ai suoi piedi lo guardano e letteralmente si offrono a lui allora l'altra tendenza di questi personaggi compresa quella che si spaccia che si spaccia per sua cugina giustamente quella che si spaccia per sua cugina vorrebbe saltargli addosso e lui non fa una piega alla fine non fa una piega gli dice anzi sei molto carina beh devo dire che si ma glielo dice glielo dice in un modo beh devo dire che in verità sei molto carina sei molto con questa faccia la cosa la cosa in comune sia tra Andolfi che Wiseau che Neil Breen è anche questa loro sono circondati da donne che si offrono proprio senza problemi ma molte di loro se non addirittura tutte poi lo trattano male lo imbrogliano lo ingannano e se ne vanno per i motivi più sbagliati questa è l'altra cosa in comune sì è vero è verissimo io prenderei uno psicanalista e gli farei vedere questa serie di film e cercherei di fare il ritratto degli autori di certi autori indipendenti questa cosa in comune sono veramente sempre più tamorose questa cosa che hai detto poi torna anche in rieco a Borim cioè il sequel della croce dalle sette pietre che dopo affronteremo più tardi però è vero che torna sta cosa sì e volevo dire è arrivato un complimento al volo oh grazie Davide ci sta ci sta è meraviglioso comunque no non ci siamo adentrati troppo nella trama perché c'è questo trama della cugina che è allucinante ne esci matto però il motivo per cui esiste Gordon Mitchell nel film è che Gordon Mitchell ha questo ruolo di specie di santone cardinale ragazzi il film parte a bomba il film parte con un'orgia salvata con l'immagine di repertorio in cui c'è questo cardinale questo santone che all'interno di questo rito vai eccolo eccolo ok lui si si lo vedo lo vedo lui è Gordon Mitchell che è appunto questo vescovo questo cardinale questo santone che fa questo rito questa orgia sabbatica per rievocare questo spirito questo demone che si chiama Aborim e lì è meraviglioso Gordon anche Gordon ovviamente è doppiato da un doppiatore professionista che io mi domando che faccia avrà fatto quando ha letto il copione e ha dovuto ripetere mille volte Aborim mostrati a me mostrati a me Aborim mostrati a me porca miseria Aborim porca miseria Aborim mostrati a me e il demone quando viene quando viene evocato fa sesso all'interno di quell'orgia con quella che poi è la madre diventerà la madre di Marco Sartori del nostro protagonista quindi Marco è figlio di un demone e di una donna e cosa succede? la donna poi si rende conto questo lo scopriamo poi nei flashback lo scopriamo la donna si rende conto di aver sbagliato e allora trova questa patacca questa gemma questa croce gemmata questa croce dalle sette pietre volevi forse dire l'eponima croce dalle sette pietre esatto non una patacca com'è che lo chiamano per tutto il film la croce gemmata la croce gemmata la croce gemmata la croce gemmata è molto epico la croce gemmata la croce gemmata che quando lei glielo mette al figlio allora a quel punto frena i poteri i poteri malevoli la cosa molto divertente è che quando lei fa questa cosa il demone riappare da dietro quindi io non lo so come l'avete intesa voi ma non si era mai visto che il demone dopo che fa e c'è la mitica scena della sgualdrina cioè questa cosa Toshiro il fatto che lui appaia da dietro mentre lei fa questa cosa e sono in casa e il bambino è piccolo il piccolo Marco Sartori è nella culla e lui appare da dietro e poi gli date la sgualdrina sembra di vedere una specie di casa vianello da psichedelico cioè nel senso io non lo so sembra di vedere una una sessione di psicoterapia fatta male cioè probabilmente sì ma la cosa assurda è che il demone vive con loro come l'avete intesa quella scena il demone vive con lei buongiorno amore in casa cosa stai facendo mio figlio è un'idea geniale se non si era mai visto che il demone dopo la possessione rimanga a vivere con la donna posseduta è meraviglioso casa demone casa demone era in cucina casa demone eccezionale eccezionale allora io ho per giustamente una cosa importante dei nostri speciali sui lupi mannari è farvi vedere la scena della trasformazione assolutamente vi abbiamo fatto vedere quello dell'ululato che era del 1981 vi abbiamo fatto vedere il lupo mannaro americano a Londra che era del 1981 anche quello sei anni dopo nel 1987 la trasformazione a vista di Marco Antonio ha fatto dei progressi nella patria di Rambaldi voglio dire nella patria del premio Oscar Carlo Rambaldi questo non penso sia suo guardate che meraviglia lo sguardo ma guarda che sguardo siamo tornati siamo tornati alla sovrapposizione degli anni 30 del primo uomo lupo quello classico a me piace pure cinema espressionista esatto l'altra cosa è che va estremamente piano cioè è a fasi è chiaramente a fasi tipo stop and go stop dunca piena troppo pochino play eccetera dura un sacco ed è accompagnata da una musica di tensione e versi tipo versi tipo così per tutto il tempo che se vi ricordate un lupo manaro americano a Londra c'è stato tutto questo studio sul verso poi avevano scelto il ringhio di un lupo mischiato con invece il barrito di un elefante quindi una cosa un po' più profonda e qua invece hanno semplicemente messo una roba tipo aunga sì esattissima un po' più prolungata che dura un'infinità e vorrei molto che parlassimo di come di come Andolfi abbia usato la colonna sonora in questo film perché io sono ancora colpito nel profondo da una scena di interrogatorio barra tortura in cui in sottofondo c'è questo questo jazz un po' tipo da club fumoso sì perché sono in un club sono in un night club lì no? se non ricordo male mi sta prendendo non sono a casa non sono a casa del camorrista e poi attenzione stacco e maschera ma notare che prima dello stacco aveva più peli sul mento poi li ha tolti la mitica scena dove calcia la sedia e poi basta poi c'è questo cane che ogni tanto arriva a messaggio subliminale queste immagini del cane è clamoroso ma perché anche dei tentativi di messa in scena molto cioè tutta la parte in cui lui si trasforma per la prima volta e poi c'è questo lunghissimo montaggio di cinque minuti per gli assimmetrici sulle guacce esatto è vero è vero capisco e c'è tutto questo questa parentesi che dura tantissimo forse un'ora e mezza due o non lo so sono cinque minuti con questi filtri rossi gialli allucinanti con questo montaggio elitico strano che mette dentro flashback flash forward cose nel presente e va avanti così per un sacco di tempo e dici cacchio cioè è un autore cioè ci prova vuole fare questa cosa molto eterna ma tra l'altro ma tra l'altro io ho notato questa cosa ho notato questa cosa riguardandolo ho notato questa cosa riguardandolo che a parte la scena iniziale oh ciao a parte la scena iniziale dell'orgia sabbatica dove si vede il demone a Borim se tu togli un po' quella cosa prendi una persona gli fai vedere questo film senza dirgli nulla il film fino a quel momento è una specie di melò una specie di melò un po' vagamente erotico con uno scippo e questo qua che è un po' drammatico che si ritrova ad avere a che fare con la camorra se tu non dici niente a questa persona questa persona guarda il film dice questo qua è un film così e poi quando arriva quella scena io penso che una persona fa il più grosso what the fuck della sua vita perché quella scena è completamente arriva dal nulla proprio è il maccosa da definizione bravissimo è il maccosa più grosso della tua vita se non sai che questo è un film che parla di una trasformazione quando arriva però ci dimentichiamo che prima di questa trasformazione c'è la morte di non di Nanni però è la morte di Totunno Gaffone no è lì che si trasforma per la prima volta lui si trasforma però non è una trasformazione a vista esatto lì esce l'inquadratura e poi rientra già trasformato è per quello che dico che è un maccosa perché tu vedi uno che guarda dall'orologio impaurito e dici ma perché star croce qual è il problema e poi vedi il Totunno caffone che sta al telefono e dalla finestra vedi lui nudo con quella maschera così ce l'abbiamo è capito è questo che vedi questo è quello che vedi se tu non lo sai se tu non lo sai che salto fai quando vedi sta cosa cosa sta succedendo dall'inquadratura esce dall'inquadratura Marco il banchiere e rientra e rientra allora questa secondo me è la stessa composizione di inquadratura di Drew Barrymore con la maschera di Scream esatto però però con i 15 anni prima è clamoroso capito cioè lui esce lo vedi per la prima volta da lì e poi spacca il vetro vedi questo uomo nudo con una maschera che entra e ammazza qui e ammazza il povero il povero amico di fantozzi perché come ci ricorda The MatBat nei commenti lo ammazza sciogliendogli la faccia con la sola imposizione delle mani tra l'altro perché poi c'ha questo potere è un'altra cosa molto interessante sì c'ha questo potere incredibile che lui non è che sbrana le persone o le scanna come un uomo lupo no lui ti tocca sulla spalla e tu ti squagli esatto che quello è un effetto impegnativo cioè quindi sono stati buttati dei soldi per quel tipo di effetto sì esatto quella non so cioè quella secondo voi è una scelta voluta tipo mi servono i soldi perché il mio uomo lupo fa sciogliere la fazza della gente o è una roba del tipo allora quello che mi fa gli effetti speciali mi ha detto che riesce a fare è maschere pelose e le fazze che si sciolgono quindi uniamo il grembo materno che esplode la seconda la seconda la seconda che hai detto Nanni cioè con i soldi che abbiamo possiamo fare questo e cerchiamo di trovare un modo per farlo esatto anche perché ribadiamo gli altri morti il lupo Mannaro li fa o sbattendo o rompendo le sedie sulla schiena oppure facendo così con le teste come come Bud Spencer esattamente esattamente allora ho un'altra cosa che voglio mostrare che è questa è questa è mi bello con la fazza di una che quando le han detto ho scritto questo ruolo per te signorina bello ho scritto questo ruolo per lei sai molto educatamente però volevo sottolineare la tagline sopra sì meravigliosa lo spero intrigo amore orrore che sembra degli hashtag di Instagram 40 anni prima doveva andare avanti all'infinito secondo me lui nell'intervista che si sente esatto nell'intervista che si sente nel Blu-ray lui lui ci tiene molto a questo a questo misto di genere lui sostiene che uno dei motivi per cui il film non ha avuto la distribuzione che sperava è che i distributori classici erano spiazzati da questo mischione di genere distruttori e i critici e i critici ovviamente erano spiazzati da questa da questa sua libertà nello spaziare tra un genere e l'altro è una teoria è una teoria questo lo dice anche nell'intervista nell'intervista che trovate su YouTube lui a un certo punto dice lui sostiene che Roma sia una città dove tu puoi fare tutto puoi fare qualunque genere puoi fare anche il western e tant'è che il tizio gli riconosce che in questo film è un mistone di generi perché c'è l'erotico c'è il melodramma c'è il poliziesco e c'è l'horror e infatti lui ha voluto buttarci dentro tutto perché questo è la sua concezione quindi sono lieto di sapere che il maestro ripete queste cose in più interviste c'è anche una parte che hanno dato più di un commento vorrei sottolineare che la cronica della tagline è miau bellissima che è una cosa più appropriata io vorrei soffermarmi scusate vorrei far sottolineare che cos'è un lupo mannaro se non un cane strano che ha poi subito una mutazione e qual è la nemesi storica del cane se non il gatto e qual è il verso del gatto secondo me era nella prima stesura della sceneggiatura io volevo soffermarmi su una io volevo soffermarmi su una cosa Nanni mi rimetti un attimo la locandina sì ce l'ho prontissima eccola qua allora se voi leggete qui sulla locandina c'è scritto la croce dalle sette pietre dove sette è una parola esattamente come si fa in questi casi cioè quando si fanno le locandine quando si dà un titolo a un film i numeri dall'uno al dieci sono delle parole dal dieci in poi sono dei numeri tipo il gatto a nove code di Dario Argento nove è una parola però in realtà se voi guardate il film il titolo non è scritto così a me questa cosa mi fa impazzire cioè il titolo il titolo vero del film è la croce dalle sette pietre dove sette è il numero sette quando appare ed è infatti il titolo che appare nel cofanetto che tu hai che tu hai in anni il sette è il suo numero che uno può pensare va bene ma questo è il tipico titolo del cazzo che trovi sul web è sbagliato no è quello corretto quello è quello corretto e quello che trovi sulla locandina gliel'hanno corretto dopo inoltre lui si chiama Marco Antonio Andolfi ed è regista è regista il film l'ha scritto diretto prodotto e montato il film però è interpretato ma quando interpreta si chiama Eddie Andolf questa è una scelta non artistica lui ha detto che ha dovuto per forza crearsi uno pseudonimo perché se i produttori scoprivano che l'attore protagonista era anche il produttore regista avrebbero fatto storie quindi loro non sapevano che l'attore era lo stesso che dirigeva e scriveva il film e si è creato questo pseudonimo questo innasabile Andolfi innasabile così di sicuro non lo scopre nessuno io trovo che questa è geniale anche questa questa cosa qua ma che bello allora io voglio parlare anche di un'altra cosa che mi ha colpito durante l'ultima visione che ho fatto ovvero che abbiamo già detto che Andolfi si fa doppiare da Luca Ward e gli altri personaggi quindi Luca Ward lo doppia in doppiaggese puro con l'addizione assolutamente impeccabile da telegiornale e gli altri personaggi sono doppiati in napoletano sì e sono un misto di non sono riuscito forse non mi sono soffermato a guardare tutte le scene per evitare di distrarmi troppo però qualcuno ho visto il labiale e recita in inglese ma è doppiato con accento napoletano sì qualcun altro è la voce sua immagino Totonno o Cafone voglio dire pulito non ci riesco per il suo emiliano però quello che fa ridere di Totonno o Cafone porca misera è che la prima volta che viene fatto il suo nome lo fa Luca Ward in doppiaggese immagino ti putto e parlano in napoletano e poi e poi lui che dice sei Totonno o Cafone in doppiaggese puro enunciato bene quella cosa lì mi ha capottato immediatamente a me ha capottato il capo della mafia quello che viene dalla Sicilia che c'ha un accento che è misto tra americano e siciliano e non si sa decidere il bo sitano americano incredibile che non sa decidersi come cazzo parlare quando arriva dice una cosa tipo good morning baciamo le mani una cosa del genere prima dice good morning e poi baciamo le mani baciamo le mani a vos signoria bravissimo esatto good morning baciamo le mani a vos signoria Giampiero sottolineava che si trattasse di scelta pasognana però è quello che fa ammazzare il protagonista che parla in doppia genere e gli altri che parlano in napoletano ma anche doppiati in napoletano quindi proprio come scelta consapevole e non tipo ognuno parla con l'accento che si ritrova e amen no ma poi un mischione di napoletano romanesco siciliano è incredibile spuntano fuori delle cose davvero belle leggo anche a lo ha fra i commenti che ricorda uno dei due scagnozzi che hanno uno spazio infinito questi due scagnozzi che servono per fare gli spiegoli per raccontare dove è finita nel frattempo la croce e cosa sta succedendo mentre tortura la protagonista a proposito Odimo Odimo esatto mettendo su questa mini sitcom tra loro due in cui forse il momento più alto andiamo a vedere Maradona no il momento più alto è quando il film ci risponde alla domanda finalmente dove è finita la croce dove è finita la croce dalle sette pietre ragazzi è finita la giocola di Roma la quale a un certo punto salta fuori che la croce non è più inspiegabilmente non è più a Napoli ma si trova a Roma nelle mani di questa chiromante ok e quanto cazzo fa ridere il momento in cui lui gira per Roma e c'è questa signora che dal nulla gli dà da dire da sopra che è il momento che il nostro autore ci fa capire che siamo a Roma perché proprio ci fa parlare questa signora doppiata in accento romanesco ma è morta 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 io signora sto cercando e poi cosa risponde Luca Ward in doppiattese signora io sto cercando questa croce gemmata questa signora questa maga questa ma è morta 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 ma sta qua sotto sta e vai e vai e quindi ma la cosa divertente è che come giustamente dicevamo prima ogni donna cade ai piedi del nostro Marco Sartori quindi questa nonostante sia quella che ha in mano il famigerato amuleto non resiste alla tentazione di farci sesso con lui e lui nel frattempo alla fine c'è questa scena finale che è clamorosa perché lui si trasforma durante l'atto sessuale ed è una scena è pieno di cose molto così insomma molto 1987 ma anche il modo in cui vengono trattati tutti i napoletani in questo film non è proprio bello c'è anche un brevissimo momento a quanto pare i mafiosi i camorristi con cui si inzacchera il protagonista hanno la servitù di colore c'è anche un brevissimo momento di altissimo razzismo ma proprio un flash di altissimo razzismo violentissimo proprio perché è un passant c'è il tizio che gli chiede il maggiordomo che è nero gli dice il nostro lupo mannaro ha appena fatto la strage ha appena fatto lo scempio arriva il maggiordomo nero ai nuovi a questi camorristi a questi mafiosi che ha amici del camorrista ma qua è successo un casino è successo un casino e quello gli risponde tipo che è successo te l'hanno rubato i gioccoladini una cosa del genere ci fa una battuta orribile una cosa incredibile una cosa incredibile e poi si appunto non stavo esagerando il personaggio che adesso possiede la croce cioè che alla fine del film nell'ultimo atto possiede la croce che quindi deve essere trovato dal protagonista viene identificato più e più volte da più personaggi come la zoccola esatto molto bene e poi c'è anche questa cosa di quest'ultima parte del film che sono 20-25 minuti in cui il principe Marcantonio non sapeva cosa fare e a lunga dismisura c'è lui che quando arriva a Roma chiede indicazioni stradali a due persone diverse pur di fare minutaggio e arrivare all'ora event poi c'è questa lenta zoomata sul cartello col nome della via uscita romano mentana 30 secondi li buttiamo lì dopo una cosa da dire su quell'inquadratura vai finisci Toshiro che ha il cartello sbeccato questa è una cosa che mi ha fatto abbastanza impazzire dopo dopo e no tutto il finale così tra cui anche l'interazione con questa cartomante che gli si getta ai piedi semplicemente dicendo dobbiamo aspettare perché no dobbiamo aspettare perché no facciamo tener a mente all'amore sì lui si fa spogliare proprio si fa spogliare proprio come la tipica persona che l'amore l'ha fatto molte volte e poi consuma come abbiamo raccontato prima in quella maniera lì e c'è la terza trasformazione che è altrettanto incredibile perché di nuovo munta per probabilmente due minuti e poi il finale e poi il finale e poi come finisce il film hai raccontato tu di come viene sconfitta la maledizione e allora Marco l'ex Lupo Mannaro anzi Lupo Mannaro però con l'amuleto e la sua bella che mi pare si chiami Maria sì ma tanto è una tanto è una che arriva dal nulla anche quel personaggio lì i personaggi femminili sono scritti col culo cioè non c'è però capito però intanto non parla mai perché la Sandrelli si era interessata hai ragione non mi scusa non mi permetto comunque è una che l'ha incontrato l'ha incontrato all'inizio del film l'ha vista e l'ha detto ti amo dopo 25 secondi alla fine quando è tutto risolto sono felici e contenti in piazza Roma piazza San Pietro a Roma hanno un cane che non si sa come però è sempre bello fa sempre e che cosa appare in cielo e in questa in questa panoramica su piazza San Pietro quando si arriva la cupola in trasparenza fare il faccio di Gesù Cristo per nessun motivo in realtà se non che forse è grazie a lui che beh lui è l'unica cosa che mi viene in mente è che l'unica cosa che mi viene in mente è che nel flashback c'è anche un mini spiegone sull'origine della croce dalle sette pietre dice la sua mamma che apparteneva a un vescovo che era stato fatto santo e quindi alla fine si può dire che il merito sia di Gesù Cristo c'era il sottotema religioso che però è una di quelle cose che sono finite sparite nei tagli di montaggio o nelle pagine di sceneggiatura che hanno dimenticato di girare eccetera però mi dà l'idea proprio della classica cosa che metti perché tu sei convinto di aver fatto un film che ha anche il messaggio religioso e però ti sei dimenticato di mettercelo in realtà quindi alla fine semplicemente o dai per scontato che tutti gli spettatori siano come te e che quindi davanti a una storia di questo genere pensano di sicuro che la croce ha a che fare con Gesù cioè è una delle cose che se tu sei molto religioso e non so che tipo di persone frequenti dai per scontato che è una cosa che condividono tutti e che capiscono tutti al volo e quindi è piazzata così senza la minima spiegazione semplicemente il finale è a San Pietro appare Gesù e parte la musica angelica epica l'altra l'altra opzione che mi viene in mente è un sbalzo di tono spettacolare rispetto al resto l'altra opzione che mi viene in mente è che forse in fase di presentazione del progetto al ministero esatto c'era quest'obolo c'era quest'obolo per ottenere i fondi e lui ce l'ha dovuto mettere in extremi molto probabile non c'è Gesù in questo film dove lo mettiamo c'è troppo poco Cristo in questo film guarda il maestro nelle interviste ha detto che lui ha inteso il film come una lotta tra il bene e il male di fatto il patto col demone per riuscire ad avere queste cose è un patto con Satana e quindi alla fine il ritrovarsi alla fine essere felice eccetera non poteva che finire con questa con questa piazza molto un piazza San Pietro molto illuminata bene e c'è questa questo faccione di Gesù Cristo per far capire che il protagonista si è riappacificato con Dio queste sono proprio le parole del maestro che ci spiegano la gravitas dell'opera una cosa che ho trovato veramente sublime una cosa che ho trovato veramente sublime l'unica foto che c'è sulla pagina di Wikipedia della croce dalle sette pietre è una scelta che trovo veramente azzeccata ovvero è una foto piccolissima un thumbnail di San Pietro con Didascalia una veduta della basilica di San Pietro località in cui è vittata l'ultima scena del film meraviglioso meraviglioso che bello volevo mostrare un altro commento a Lolo che cito un'altra scena che mi ha fatto molto ridere ho pensato immediatamente a Boris quando dice Mariano sembra che ti stai a lavare i denti senza spazzolino si è tremenda quella scena ci scommetto che è il motivo per cui Zaira Zocchedu si è ritirata dalla carriera cinematografica di attrice quando è arrivata la schiuma in bocca Marco Antonio sono esattamente è esattamente il tipo di scena di cui non voglio sapere dietro le quinte esatto vi consiglio di guardare vi consiglio di guardare Disaster Artist perché Disaster Artist affronta quello che è l'imbarazzo totale di una scena del genere quando è stata scritta pensata scritta ed è pure prodotta e diretta da personaggi di quel genere lì esatto vedete quella scena in Disaster Artist è terribile se andate poi a leggere il libro su come sono svolte direttamente le cose è dieci volte più soft non solo su come si sono svolte le riprese ma anche sulla reazione di lei ovviamente perché quella è una scena che in un film del genere la reggi solo se ti fanno vedere se ti fanno vedere che l'attrice protagonista comprende sopporta e la sa prendere nel verso giusto che non è necessariamente quello che succede quindi vedo quelle cose lì ed è proprio il momento in cui dico se non si sa come sono andate le cose rischio quasi di non saperlo certo e io volevo dire una cosa quando fa quella inquadratura sostenuta sulla via la via si chiama via Giotto viale Giotto quella inquadratura in uno degli incontri qualcuno ha l'idea geniale di chiedergli il motivo per cui si sofferma su viale Giotto e il maestro ha questo colpo di genio di rispondergli che beh Giotto era quello della perfezione del cerchio se tu guardi in quella scena poco prima io faccio vedere dei bidoni della mondezza accatastata lì quindi per me Roma che è la perfezione volevo creare questo contrasto che capolavoro che capolavoro quello è assolutamente impeccato io a questo proposito Nanni e Toshiro se siete d'accordo volevo leggervi una testimonianza che avevo avevo sapientemente salvato in un documento Word che è una cosa che diciamo che avevo trovato nel forum dei film brutti datata 2007 da tale preci con la Y quindi ti tengo a dire che non è una fonte una fonte certa ok però a me piace pensare che questa cosa sia vera perché è meravigliosa questa cosa così è come Gubbio si stampa la versione che fa ridere a me piace vogliamo credere vogliamo credere e vabbè non posso questo direttamente dal forum di filmbrutti.com nel 2007 e vabbè non posso non fornirvi qualche chicca sul film dei film premetto vantandomene che la copia che ho visto io è stata fornita direttamente dalle mani del maestro è vero che è stato proiettato in sala a Roma si trattava della notte del cinema trash Andolfi invitato era presente partecipò al dibattito sul suo film fornendo risposte leggendarie e vinse tre oscar sui cinque messi a disposizione in altre sale italiane non è mai stato proiettato semplicemente perché non è mai stato distribuito da nessuno che poi non è vero perché ha avuto delle proiezioni da qualche parte c'era sono state iniziative singole esatto due sale in Sicilia dice sempre le poche fonti che possediamo dell'epoca esatto aggiungo che il montaggio è firmato Andolfi perché la casa è ingaggiata dalla produzione una volta visto il materiale si rifiutò di montarlo Andolfi girò tutta Italia per trovare qualcuno disposto a fare il montaggio anche perché per via dei finanziamenti statali il film doveva essere realizzato ad ogni costo alla fine mossi a compassione in uno studio romano gli dissero una cosa tipo senti la sta la moviola se vuoi montatelo tu il maestro è personaggio sublime durante il dibattito sciorrinò delle perle indimenticabili domanda di uno dei relatori maestro nel film vediamo alcuni personaggi che in taluni momenti hanno dei ruoli molto importanti tipo tutte le donne tutte le donne ma che poi scompaiono e non ne sappiamo più nulla come mai risposta del maestro ragazzi ma anche nella vita reale ci sono persone che per un determinato periodo sono molto importanti e poi non ne sappiamo più nulla è troppo avanti che bella vita e comunque indubbiamente il film gran film che abbia avuto l'onore di vedere e mi spiace tanto che sia diventato di pubblico dominio a noi arrivò tramite scambi con amatori giapponesi di bel cinema la cosa indubbiamente toccante fu la commozione del maestro nel ricevere gli Oscar in un tripudio di folla applaudente si avvicinò al microfono visibilmente commosso e dichiarò ragazzi con questo film mi avevano riso tutti in faccia a un certo punto avevo quasi pensato che il cinema non fosse la mia strada invece oggi ho capito che ci avevo visto giusto e da domani inizio a lavorare ad una nuova sceneggiatura le ultime notizie che ne ho chiudo le ultime notizie che ne ho me lo danno a metà anni 90 forse anche qualcosa prima in Romania a cercare chi volesse produrgli il nuovo film e questa cosa infatti torna con Riequo a Borim perché in Riequo a Borim ci sono degli attori rumeni e quindi forse questa cosa non è esattamente del tutto accampata per aria allora Riequo a Borim allora nel conferente della Tetrovide ci trovate anche Riequo a Borim che è il sequel della Croce delle Sette Pietre che non è però un lungometraggio ma è un corto di mezz'ora che purtroppo per la serie di sfighe non sono riuscito a guardare però tu Terrence l'hai guardato ciò vuoi descrivere brevemente l'ho riguardato perché ovviamente l'avevo già visto quando era uscito è del 2005 giusto dovrebbe essere del 2000 aspetta te lo dico comunque si è girato almeno per anni dopo 2007 e 2007 sì esatto 2007-2008 allora Riequo a Borim innanzitutto è un cortometraggio di 30 minuti che non è vero che sono 30 minuti Gian Piero è un'ottima domanda probabile innanzitutto non è vero che sono 30 minuti perché il minutaggio è 30 minuti ma il maestro praticamente l'ha infarcito di scene prese dalla Croce dalle Sette Pietre e da Talisman di cui non abbiamo parlato ma detto molto brevemente è un rimontaggio fatto da Marco Antonio Andolfi del primo film con aggiunta di scene prese da documentari vari per cercare di dare un'origine al male di Borim che abbia a che fare con il continente africano io quella versione purtroppo non l'ho ancora mai vista però se è simile meglio così ma se è simile a quello che si vede in Riecco a Borim è qualcosa di abbastanza vergognoso perché io non penso che in Riecco a Borim si vedono certe scene tratte da Talisman perché si vedono queste immagini di questa gente africana che muore di fame e l'ha presa spudoratamente da dei documentari io non credo che abbia preso che abbia chiesto il permesso di poterlo fare quindi va bene tutto ma tu cazzo stai usando delle immagini di persone che stanno male e si vede per raccontare la tua stronzata ok cioè va bene tutto ma qui fa brutto capito il corto è di 30 minuti ma solo a minutaggio ragazzi perché in realtà è infarcito di scene tratte dalla croce e da Talisman compresa l'intera trasformazione in Lupo Mannaro quindi in realtà il cortometraggio su un quarto d'ora da sola come abbiamo visto esatto il cortometraggio dura 15 minuti dura 15 minuti dura 15 minuti e vede il nostro il nostro protagonista che non si sa per quale motivo non si chiama più Marco Sartori ma si chiama Eddie Andolf in questo caso Eddie Andolf è il personaggio ma è Nightmare il nuovo incubo bravo esatto questa questa messa in abisso mi sta veramente travolgendo questa cosa è meravigliosa perché lui non si chiama Marco Sartori come nel primo film ma si chiama Eddie Andolf come l'attore fittizio che lui si è inventato per fare questo film tutto girato in un appartamento tutto girato in un appartamento la storia è molto semplice e la storia è molto semplice e racchiude in 15 minuti la summa della sua poetica ovvero la misoginia e il razzismo perché la trama è la trama è e il farsi vedere nudo da dietro esatto sì sì ma anche un po' da davanti in questo caso ora è un po' il film è un po' in là con l'età quindi si fa vedere poco però tranquilli che la sua controparte è la sua coprotagonista lei si vede si vede bene tra l'altro ci tengo a dire che la attrice che si chiama Margherita Di Sarno io sono andato poi a informarmi su chi fosse e nel suo c'ha un sito ufficiale un'attrice questa ragazza nel suo nel suo sito ufficiale nel portfoglio non appare nemanco per sbaglio riecco a Borim è l'unico momento in cui appare è nella pagina di IMDB perché lì non puoi scappare non puoi nasconderti però secondo me non è chiaro che non l'ha messo apposta da nessuna parte anche perché credo che sia l'unica l'unica produzione dove questa attrice si veda nuda perché si vede a seno nudo fondamentalmente e la storia è lei e lui che stanno insieme fanno sesso ma lei a un certo punto gli dice aia mi fai male e mi fai male perché mi pungi con questa croce gemmata con questo talismano che dir si voglia quindi fa anche autocitazione capito fa tutto un meta e hanno questi litigi che sono meravigliosi cioè a me dispiace che Riecco a Vorim non si conosca tanto quanto la croce perché ci sono dei momenti esilaranti di bruttume di recitazione melodramma orribile e cosa succede? succede che gli entrano in casa dei rumeni di notte lo stordiscono gli tolgono la croce e vanno nell'altra stanza per cercare di violentare la sua compagna però chiaramente lui viene tolta la croce quindi si trasforma e questa volta però non vediamo neanche la trasformazione a vista vediamo soltanto la reaction negli occhi dei ladri rumeni e negli occhi della sua fidanzata e il corto finisce con allora lui in certo punto gli spiega tutta la faccenda dell'Africa tutta la faccenda del fa proprio parte ci sintonizziamo su Radio Recap dove lui la sua voce ci fa tutto il ricappone di tutto quanto e alla fine praticamente la tipa lo ammazza nel sonno gli spara in testa a lui perché si scopre che in realtà come ci viene raccontando mi fai male all'ombelico ma perché insisti tanto su quel punto esatto bravo Giampiero perché scopriamo che in realtà anche attraverso le parole del nostro Eddie del nostro Marco quel talismano è stato sottratto all'Africa per fermare questa maledizione ma in realtà da quando è stato sottratto all'Africa in Africa è arrivato alla povertà le guerre e tutto quanto quindi alla fine c'è il colpo di scena finale in cui si scopre che la tipa in realtà era in missione apposta per rubargli la croce e riportarla in Africa il corto finisce con lei che dice missione compiuta andiamo il volo per l'Africa parte fra due ore e finisce questo pensavo che corto finisce con lui che si riprendeva la croce e dicesse digli che si attacca un arcazzo no però capito cioè torna 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 la donna che però è malvagia capito che lo frega esatto esatto no quella è una roba che va veramente investigata perché alla fine è chiaro c'è chi lo camuffa meglio e chi no però è chiaro che tutti questi progetti partono da uno che dice adesso voglio una scusa per trovare una che porca miseria viene letto con me su grande schermo eccetera e scrivono il film intorno a quella scena esatto no che è la cosa che ci siamo dimenticati dire poi dopo passiamo ai Jimmy Bobo che in realtà quella che è la vera ispirazione del film almeno come la racconta Andolfi è che parte da un vero aneddoto che è la scena in cui gli scippano appunto la croce ovvero lui era davvero a Napoli lui era stato veramente scippato con quella tecnica che si vede nel film ovvero di uno che gli strappa la croce da una parte e poi arriva un altro scooter dal lato opposto e gliela passa e lui come la racconta dice che è andata esattamente come la girata ovvero che lui era riuscito ad afferrare uno degli scippatori al volo e stava cercando di riprendersi gioiello quando poi è passato un altro scooter dall'altro lato e ha fatto il passaggio però lui va avanti a raccontarla e lui dice che ha chiamato la polizia quando la polizia è arrivata la versione di Andotti di come sono stati fatti è questa che la polizia siccome lui era un bel uomo vestito bene l'ha scambiato per un commissario tipo di un'altra città e hanno cominciato a trattarlo come se fosse un poliziotto anche lui per cui lui dice mi hanno fatto salire sulla volante e abbiamo inseguito questo tipo che scappava abbiamo raggiunto l'abbiamo preso l'abbiamo portato in centrale arrivati in centrale l'hanno fatto interrogare a me quindi io ho interrogato il tipo questa è la versione che racconta lui che meraviglia che meraviglia di questo Marco Antonio Andolfi low man veramente ma tra l'altro mi è fatto venire in mente ma lì la scena quanta è bella quando arriva la polizia cioè vi ricordate che la macchina arriva il tizio esce al volo e poi la macchina riparte subito ma senza che poi nessuno chiami la polizia cioè la polizia arriva così dal nulla proprio in alta uniforme tra l'altro in alta uniforme un contrammiraglio della marina esatto esatto ma la macchina che passa si ferma proprio due secondi per farlo scendere al volo e poi riparte è troppo bello sembra un cartone animato non ha senso che faccia sta cosa bellissimo fantastico va bene direi di passare al premio Jimmy Bobo si dobbiamo 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 c'era il cui della serata erano veramente tanti premio Jimmy Bobo normalmente vi faremmo votare il nome più buffo che abbiamo trovato nel cast di MDB del film di cui abbiamo parlato questa sera secondo me il premio Jimmy Bobo per i film italiani non ha molto senso perché sono tutti buffi dal primo all'ultimo per definizione per cui abbiamo avuto una pensata alternativa e sono andato sulla scheda IMDB di Gordon Mitchell e mi è bastato scorrere i nomi dei suoi personaggi per cui l'idea è che stavolta il premio Jimmy Bobo lo assegneremo al nome più buffo tra i personaggi interpretati da Gordon Mitchell nella sua carriera e ve li vado ve li vado a mostrare poi dopo cerco anche di andare al volo insomma a cercare i film corrispondenti i nomi sono questi Jack Volpetti Margherito Otto Frankenstein Greg the crazy person Pluto the god of darkness quindi allora funziona così per votare il vostro preferito votate scrivete nei commenti il numero che corrisponde all'opzione che volete votare quindi commentate uno se volete votare per Jack Volpetti due per Margherito tre per Otto Frankenstein eccetera e potete partire già da immediatamente adesso e nel frattempo quale vi interessa sapere devo recuperare devo sapere in che film esiste in che film esiste Pluto the god of darkness allora aspetta allora partiamo dal primo Jack Volpetti è da un film dell'83 che è se tutto va bene siamo rovinati che non mi suona di Sergio Martino con Gigi Andrea con Gigi Andrea e Patrizia Pellegrino quindi impeccabile impeccabile strano che non l'abbia visto direi di più andando avanti Margherito Margherito IMDB mi sta facendo i capricci maledizione ok Margherito allora IMDB mi dà il titolo del film in tedesco che sicuramente però ha anche un titolo italiano ma non per forza sembra una coproduzione turca o qualcosa del genere comunque il film è conosciuto anche come quei paracool P di Ghiolando e Margherito vi devo mettere lo screenshot perché è una roba da allora fatelo caricare si chiama ve lo giuro si chiama quei paracool puntini puntini P di Ghiolando e Margherito bellissimo adesso vi carico lo screenshot perché lo so che non mi credete anche perché è difficile da studiare eccolo qua in arrivo eccolo qua quei paracool P di 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 che che droga che giravo in quegli anni ragazzi davvero poiché abbiamo otto frankenstein viene da frankenstein 80 frankenstein 80 che invece è un mario mancini un altro film italiano che purtroppo non conosco pazienza poi abbiamo greg the crazy person andiamo a cercare immediatamente greg the crazy person eccolo qua da let's go and kill sartana che ovviamente è adesso i titoli italiani questo momento mi sfugge ma ve lo vado a recuperare al volo il titolo spagnolo è demasiados muertos paratex ale il titolo italiano è in spagnolo pure quello per qualche motivo il titolo italiano è vamos amatar sartana che bello e infine Pluto the god of darkness che mi sempre ragazzi se non vince la 5 io mi incateno Pluto the god of darkness è il suo personaggio in un film che invece si chiama Vulcan the son of Jupiter puoi per favore leggere il nome del regista di Vulcano figlio di Giove è Emimmo Salvi Emimmo Salvi Emimmo 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 scusa mi scusi signor Salvi prima vi avrei messo Emimmo Salvi di Jimmy Bob perché sarebbe stato il mio preferito Vulcano figlio di Giove regia di Emimmo Salvi sembra maccio capatonda mi sto sentendo male allora mi sono già perso eccolo qua no allora il titolo italiano di Vulcan the son of Jupiter in realtà penso sia titolo Vulcano figlio di Giove ci sta ok direi che avete votato quindi vado a preparare la schermata ci siamo rullo di tamburi ha vinto ha vinto è coperto ha vinto Pluto the god of darkness ah per un attimo pensavo avesse vinto Margherito infatti era coperto ha vinto Pluto the god of darkness secondo Otto Frankenstein e terzo posto Greg the crazy person però direi che ci sta bravi bravi a me fa venire in mente non so se ci avete presente no sono stato sbagliato bottone e se avete presente Ed Isard il comico che aveva uno scherzo sui vari quindi a me viene sempre in mente Jeff the god of biscuits che è un altro versaggio su cui un giorno dovrebbero girare una biografia comunque congratulazioni a Pluto the god of darkness che ha usato i suoi poteri dell'oscurità immagino per vincere il premio di Bobo dedicandolo a Rimbo esatto direi che siamo arrivati alla conclusione ed è il momento di annunciare il titolo di giovedì prossimo è finito lo speciale Lupi Mannari perché non si sa finirlo meglio di così per giovedì prossimo rimaniamo sull'horror e rimaniamo sugli stranissimi perché è il trentesimo anniversario di un classico poco conosciuto poco pubblicizzato ma importantissimo è un film che ha influenzato parecchio il genere del fan footage anche se è arrivato dopo a Cannibal Holocaust la storia è questa siamo sulla BBC la BBC decide di fare uno speciale di Halloween decide che lo speciale di Halloween è una cosetta d'orrore dove vanno a riprodurre la famosa storia vera ambientata della casa posseduta di Enfield la stessa storia praticamente che è raccontata anche in The Conjuring 2 ma decide di farlo sotto forma di speciale televisivo spacciato per una vera diretta e quindi viene annunciato come una diretta vera in realtà è recitato te lo accorgi dal minuto uno su un minimo sgamato e per cui ti fa vedere questa troupe giornalistica come se fosse che cavolo non so a me viene in mente chiambretti quando andai a fare le trasmissioni in casa della gente però come se fosse i fatti vostri tipo con l'inviato che va nelle case a vedere cosa succede ti fanno vedere questo inviato esatto tipo la vita si è in diretta e fa vedere questo inviato che va a casa della famiglia che sta vivendo questi episodi di possessione demoniaca di strani avvenimenti che succedono nelle case e fanno il giochetto di spacciartelo per vero per fartelo vedere in tempo reale con collegamenti vari eccetera ora di nuovo siete se avete visto più di quattro film nella vita lo capite che è finito però al tempo un sacco di gente ci cascò e si cagò addosso e il film fu censurato da loro cioè censurato diciamo che non fu più trasmesso e non se ne parlò più perché la BBC ricevette una quantità record di lettere di protesta e gente che gli era venuto un infarto un po' di tutto il film comunque è stato recuperato era uscito in DVD qualche anno fa ed è uscito un nuovo caffanetto Blu-ray che è uscito proprio in questi giorni ve ne parleremo non ho neanche detto il titolo il titolo è Ghostwatch ed è questo io domani letteralmente domani andrò a vedere una proiezione di Ghostwatch con ospiti il regista e alcuni degli attori per cui avrò modo di raccogliere qualche insomma qualche testimonianità di realtà qualche aneddoto nuovo e non vedo l'ora raccontarlo perché comunque il film in sé è anche molto interessante è del 92 ma proprio anche come struttura come stile e costruzione anticipa tantissime cose che poi si sono viste solo dai Paranormal Activity in poi e quindi è una cosa molto interessante che vi consiglio di provare a recuperare se ce la fate e altrimenti ve la raccontiamo giovedì prossimo e molto bene direi che con questo sì come Mokumetri che dice esatto esattamente quello però c'è nel 92 quando Mokumetri non le faceva letteralmente nessuno e niente direi che per questa solo Disisprime al tempo fondamentalmente all'epoca sì esatto sì c'erano quelli comici di Christopher Guest esatto però sì per l'ora era una novità e poi siccome ho avuto questi problemi cioè non si è più recuperato il sottogenere fino a quando è arrivato fuori Blade Witch Project eccetera va bene è tutto grazie mille grazie mille per aver partecipato ci siamo divertiti moltissimo era una serata densa l'avevamo previsto quindi grazie mille un grazie a Cristiano Liprandi e Dario Cogliati per la videosigla e per il countdown un grazie mille al maestro Ludwig van Verhoeven per la Trinodia per le vittime di Valverde grazie mille anche a Nano World of Steel per la sigla classica dei 400 calci e un saluto calcista a tutti alla prossima ciao 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 a tutti